Allora bravo la gente, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Irene e oggi ragazzi ci troviamo finalmente in un nuovo video di trucchi per Instagram Ehi, sei nuovo? Bene, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato Negli scorsi due video avete fatto davvero tantissime domande per quanto riguarda Instagram Avete lasciato davvero tantissimi mi piace e quindi dato che è una serie che vi piace ho deciso di portarvi un nuovo video Su alcuni trucchetti che ho scoperto anch'io per quanto riguarda Instagram e le storie Quindi vi mostrerò oggi 5 trucchetti per rendere più uniche le vostre storie di Instagram Perciò direi di non perderci ancora in chiacchiere e di partire subito con il video Però prima di iniziare ovviamente vi ricordo di seguirmi su Instagram e soprattutto di lasciare un mi piace a questo video Per arrivare almeno a 100 mi piace per un prossimo episodio Ok, il primo trucchetto di cui voglio parlarvi oggi è la scrittura creativa Iniziamo prendendo un'immagine di sfondo In questo caso io ho preso una foto che ho scattato a Mergellina qualche giorno fa E iniziamo a scrivere Quindi prendiamo il nostro strumento di scrittura e facciamo una lettera Per esempio in questo caso ho voluto scrivere buongiorno Quindi ho scritto la lettera G perché volevo scriverlo in inglese appunto E io ho dato un colore che si addicesse comunque anche allo sfondo In questo caso il giallo Dopo aver fatto la G e averla evidenziata con uno sfondo giallo Ho deciso di metterla più in alto Quindi l'ho posizionata e ho proseguito a fare questa cosa per tutte le altre lettere In questo caso solo la parte good Gli ho cercato di mettere quanto più vicine possibili in modo simmetrico E ho finito la scritta Una volta finito la scritta ho iniziato a congiungere le lettere Come se fosse tipo quei disegni appuntini che facevate da piccoli magari sui giornali E successivamente dopo aver fatto ciò ho anche scritto morning sotto Usando semplicemente lo strumento per scrivere appunto sulle immagini Devo dire che il risultato ottenuto mi piace abbastanza Ovviamente io l'ho fatto in modo molto frettoloso Ma se ci perdete un po' di tempo verrà anche meglio E quindi l'ho usato anche in alcune delle mie storie Tra l'altro se non mi seguite su Instagram seguitemi Se volete vedere appunto delle storie particolari Il secondo trucco invece lo chiamo bordi E secondo me è un trucco davvero molto utile Se fate delle foto e non rientrano appunto in verticale Quindi se avete scattato delle foto in orizzontale Però volete comunque caricarle sulle storie in modo molto carino In questo caso ho preso una foto di piazza plebiscito Sempre scattata da me qualche giorno fa E ho provveduto a creare dei bordi utilizzando i trattieni Come avete visto ne ho creati in un modo abbastanza lungo E li ho posizionati ai bordi della foto Quindi per staccare appunto la foto dallo schermo E far sì che diventasse una sorta di cornice Ho ripetuto lo stesso procedimento anche per la parte superiore della foto E successivamente ho deciso di dare un tocco di colore Insomma all'immagine Quindi ho fatto questa specie di onda gialla sia sopra che sotto E successivamente ho anche aggiunto il tag del luogo Dal quale avevo fatto l'immagine Quindi in questo caso piazza plebiscito Tra l'altro per chi non lo sovesse i tag dei luoghi vi aiutano ad essere trovati da più persone Quindi è molto utile inserirli nelle vostre storie Ed è per questo che di solito lo faccio sempre Il terzo trucco invece si chiama disegno creativo In questo caso ho preso sempre un'immagine scattata da me Nello stesso giorno in cui avevo scattato la prima E rappresenta appunto il Vesuvio E ho deciso che sarebbe stato carino disegnarci sopra Quindi ho cercato di fare delle fiamme Che uscissero appunto dal cratere del vulcano Il risultato ovviamente non è dei migliori Perché è stato fatto in modo molto veloce Proprio per questo tutorial Però se ci perdete tempo Secondo me può venire fuori davvero un lavoro molto carino E potreste usare la stessa tecnica Anche per magari fare una foto a una tazza di cioccolata calda A una tazza di caffè E fare appunto quelle sfumature di calore Diciamo che escono dalla tazza Secondo me potrebbe essere un'idea molto carina Ovviamente se volete potete anche Scriverci qualcosa sotto Con la stessa tecnica che abbiamo magari usato Nella prima foto Ovvero quella di scrivere con lo strumento appunto Per disegnare sulle foto In questo caso io ho voluto scrivere Vesuvio Giusto per farvi vedere com'era il risultato Il quarto trucchetto che voglio mostrarvi oggi invece Consiste nel fare uno sfondo personalizzato Per magari quando mettete L'adesivo delle domande O l'adesivo della chat O comunque i vari adesivi che ci sono su Instagram Innanzitutto prendete l'adesivo appunto E create un background di un unico colore Successivamente andate nella sezione delle gif E cercate quello che più vi piace In questo caso io ho cercato star Ovvero stelle Prendete il gif che più vi piace E posizionatele al di sotto Dell'adesivo di domanda Quindi in modo che non diano fastidio Al click insomma delle persone Una volta aver deciso Quale gif vi piace di più Fate la stessa cosa per tutti e quattro i lati Fino ad arrivare a completare Tutta l'immagine Come ho fatto io Successivamente ho voluto anche disegnare Sotto l'adesivo Per rendere ancora più personale Insomma la storia E il risultato finito Devo dire che mi piace davvero parecchio Almeno non è lo solito sfondo Insomma normale Come tutte le stories Questa tecnica del sfondo Può essere usata anche per creare Magari uno sfondo proprio colorato Senza mettere nessun adesivo Poi come ultimo trucchetto Voglio mostrarvi come si fa il collage Di varie immagini da android Perché l'ho sempre visto fare da ios Però non avevo la più pallidata di come si facesse da android Perché non ho mai trovato nessuno Che facesse un tutorial in modo chiaro Dove lo spiegasse Quindi innanzitutto Scegliete sempre la vostra solita immagine background In questo caso ho preso una di quelle Già preimpostate nel mio telefono Successivamente aprite la tastiera swift key Che se non avete potete scaricare dal google play store E cliccate sulla puntina Una volta cliccato sulla puntina Potrete creare degli adesivi In questo caso io avevo già una mia foto presa E quindi l'ho messa Continuate così per mettere tutte le immagini Quindi cliccate in nuovo sulla puntina Cliccate su crea E scegliete la foto che più vi aggrada Potete ripetere lo stesso procedimento Fino ad ottenere il collage che più vi aggrada Ovviamente una volta prese tutte e tre le immagini Potrete ridimensionarle E metterle come più vi piace E questo sarà il risultato finito Bene Questi erano i 5 trucchetti Che ho scoperto io E che sto anche utilizzando nelle mie storie Spero che vi piacciono E vorrei capire che cosa ne pensate anche voi Quindi ovviamente ragazzi Fatemelo sapere qua sotto nei commenti Se conoscete altri trucchetti Che vorreste condividere con altre persone Fatemelo sapere Che magari porterò un futuro video Un futuro episodio appunto Proprio su altri trucchetti per le storie di Instagram Tra l'altro sto preparando anche un bel progettone Abbastanza grande Che mi state chiedendo davvero tantissimo tempo Per sia editarlo Ma sia anche registrarlo Perché sto registrando ancora delle parti E non vedo l'ora di farvelo uscire sul canale Per capire voi che cosa ne pensate E se vi potrebbe piacere una serie di video del genere Quindi ragazzi Niente Io vi ringrazio per aver visto anche questo video E la storia di Instagram Vi ricordo come al solito Di seguirmi sempre su Instagram Trovate anche il nome sotto nella descrizione E niente Noi ci vediamo prossimamente Con un prossimo video Sempre qua sul canale Bella